Circolare ENS con protocollo numero 5583 del giorno 9 novembre 2022 che ha come oggetto Ultima scadenza 2022 per domanda pensione Ape Sociale Si informano gli interessati, soci e loro familiari che il 30 novembre 2022 è il termine ultimo per l'anno corrente per presentare domanda di pensione Ape Sociale Anticipazione pensionistica L'anticipazione pensionistica Ape Sociale è riconosciuta a coloro che hanno almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi che si trovano nelle seguenti condizioni 1. Disoccupati che hanno terminato di percepire l'indennità di disoccupazione 2. Caregiver che assistono da 6 mesi portatori di handicap grave 3. Lavoratori con invalidità pari almeno al 74% 4. Addetti in lavori gravosi per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 Per questa categoria sono richiesti 36 anni di contributi versati La legge di bilancio 2022 in attesa di procedere ad una riforma generale del sistema pensionistico ha potenziato l'Ape Sociale estendendo tale possibilità ad altre nuove categorie di lavoratori che si aggiungono a quelli su indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 Pertanto, per il 2022, possono fare domanda ed accedere all'Ape Sociale i dipendenti, con 63 anni di età e 30 di contributi che svolgono le seguenti professioni che trovate nella tabella in allegato sotto Nel caso di lavoratrici madri appartenenti a tali categorie è prevista un'ulteriore riduzione del requisito minimo contributivo pari a un anno per ciascun figlio e fino a un massimo di 2 anni Sono quindi richiesti 29 o 28 anni di contributi invece che 30 anni Come si richiede? Per accedere al beneficio all'interno della circolare trovate il link per accedere e presentare domanda telematica all'Inps Si può accedere con lo speed personale o attraverso il patronato Importi mensili Per calcolare il netto mensile bisogna anzitutto calcolare la rata mensile della pensione spettante al momento in cui viene presentata la domanda La rata viene calcolata sui versamenti effettuati sia presso un'unica gestione sia presso più gestioni esempio lavoro autonomo più lavoro dipendente L'importo così determinato sarà quello dell'ape sociale netto mensile ma attenzione con un limite massimo a 1500 euro Attenzione! L'erogazione dell'ape sociale è esclusa nei seguenti casi Se il richiedente è già titolare di pensione diretta Se il richiedente percepisce l'indennità di disoccupazione naspi o altre misure di sostegno al reddito compreso l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale L'erogazione dell'ape sociale non è esclusa per i titolari di pensioni indirette quelle che spettano i familiari in caso di morte del lavoratore che possono richiedere l'ape sociale se ne hanno i requisiti Data la complessità della materia si raccomanda ai soci ENS e dai loro familiari che intendono valutare se l'ape sociale è adatta alle loro esigenze ed aspettative di verificare di essere in possesso dei requisiti minimi richiesti e di far parte delle categorie aventi diritto Tutti i requisiti verranno comunque controllati ed accertati da INPS Si consiglia inoltre di rivolgersi ad un CAF patronato per verificare i requisiti per la eventuale presentazione della domanda anche con l'assistenza della sezione provinciale ENS Grazie e saluti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti